Ragazza di 23 anni, io sentire un uomo di chiesa dire che eseguire la sentenza capitale per eutanasia contro una ragazza che si è tentato il suicidio due volte, ha chiesto di morire e invece di starle accanto con l'amore, noi abbiamo deciso che era giusto sopprimerla. Sentire un uomo di chiesa dire questo mi provoca un dolore fortissimo. Perché vuol dire che c'è qualcosa che ha a che fare. Con la tua vanità, col tuo desiderio di essere applaudito, col tuo desiderio di essere del mondo, lo sai bene a cosa mi riferisco, noi siamo cristiani, il Vangelo ci dice hanno perseguitato me, perseguiteranno voi, a te invece piace stare nell'amore del mondo. Noi siamo nel mondo Don Giulio, ma non siamo del mondo. Noi siamo qui a profetizzare e a chiedere che la sia resa giustizia. E non puoi dire, ultima frase Paolo, non puoi dire che nessuna religione ha la verità, perché sei un presbitero di Gesù Cristo e Gesù Cristo è via, verità e vita. Questo è quello su cui è giurato. Il desiderio è di vedere una chiesa nei quali i fedeli non si allontanino. Io nella mia esperienza pastorale vedo tante persone che si sono allontanate per posizioni della chiesa. E per avvicinarle gli dici va bene tutto? No, non gli dico va bene tutto. Gesù all'adultera dice va e non peccare più, non la condanna, ma gli dice non peccare più. Tu vuoi decidere che invece l'eutanasia non sia peccato, l'aborto non sia peccato, la verità non esista. Come fai a essere così? Tranquillo davanti a quell'applauso. Perché un omosessuale cattolico non può essere accettato dalla chiesa? Non è che le regole devono essere per forza andare contro alle regole? Perché le regole devono essere sempre qualcosa di più? L'omosessuale è accolto dalla chiesa, non c'è nessun lì. Ma non si vuole avere un uione e avere una storia d'amore. Il peccatore è accolto, la chiesa è un ospedale di campo che accoglie tutti i peccatori. Me come Don Giulio perché lo siamo...